Quello che avete appena visto è la Lion Dance in versione acrobatica, il leone danzante sui pali, è una versione molto spettacolare dell'antico leone che veniva fatto a terra. Si può trovare in ogni occasione importante come capodanno cinesi, matrimoni, feste in particolare, apertura di centri commerciali, negozi. Noi siamo dell'Italy Lion and Dragon Dance. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un applauso al maestro Gianpaolo che è il direttore artifico di questo gruppo e a Lorenzo, più grande spicatore che c'è sulla piazza. Italy Lion and Dragon Dance. Grazie a tutti. Grazie a tutti.